La procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio della canicattinese Giuseppina Amato, 37 anni, per l'accusa di spaccio. I fatti risalgono al 10 febbraio scorso, quando l'imputata, nel corso di un controllo antidroga eseguito da polizia e guardia di finanza, era stata sorpresa con 30 involucri di crack, per una quantità totale di stupefacente di 4,8 grammi. Oltre a esso furono trovati anche 17 grammi di eroina. La droga era nascosta all'interno di un fustino nella cucina della sua abitazione, dove era custodito anche tutto l'occorrente per preparare le dosi che, secondo l'accusa, la donna smerciava in paese. Nel corso dell'interrogatorio a cui si era sottoposta, la donna aveva negato di esercitare attività di spaccio e aveva anche indicato come responsabile altre due donne, presentate come le sue collaboratrici domestiche. Versione che non è stata creduta dagli inquirenti, addirittura una delle due donne era stata sorpresa in casa della stessa Amato, sebbene fosse ai domiciliari.